Lo sportello del cittadino va in trasferta e stiamo cercando di girare un po' tutta la Puglia, le varie realtà dei comuni pugliesi per capire come vanno le cose. Qui abbiamo incontrato un giovane, una persona disponibile a farci il punto della situazione. Come ti chiami? Sono Domenico. Allora Domenico, dici subito, come si vive a Molfetta? Qui vedo un lungomare bellissimo, si chiama Lungomare Colonna, mi hai detto? Sì, sì, Lungomare Colonna, Molfetta è un bellissimo comune, si vive molto bene e ovviamente diciamo come tutti i comuni del panorama pugliese e limitrofi diciamo ha degli aspetti da rimodellare e risistemare, però diciamo è un comune a misura d'uomo, comunque è una città grande, però siamo intorno ai 65 mila se non vado errato, più o meno questo numero. Un bel, vedo che ci sono tutti i presupposti per una forte offerta turistica. Sì, infatti questo è un tema importante, nelle scorse volte si diceva che Molfetta non aveva una vocazione turistica come comune, invece diciamo nell'ultimo periodo abbiamo visto che molti turisti dall'estero sono venuti a vedere vari esempi interessanti che ha il comune di Molfetta. Non dimentichiamoci che il Duomo è uno dei primi esempi di Romanico in Puglia a Molfetta, quindi diciamo ha un'attrattiva importantissima. Poi vabbè, diciamo sono state fatte delle opere di risistemazione del centro storico, quindi il centro storico adesso ha una visibilità più idonea, ha una percezione turistica. Bene Domenico, ti ringraziamo e che dire, viva Molfetta e viva la Puglia e viva naturalmente la Puglia Channel. Grazie a tutti.